Grave incidente al video di Fontanelle. Traffico bloccato e richiesta di interventi per rendere la strada sicura. Chi li sollecita come forza Italia e chi invece frena, ovvero Fratelli d'Italia. A Ribera l'invito del console russo da parte della democrazia cristiana crea malumori. In Sardegna muri tappezzati per Messina Denaro. Derby Acragas-Trapani e la partita Pro Favara-Nissa nella pagina sportiva. Ben trovati da TVA Notizie. Apriamo con la cronaca con il grave incidente sulla 189 al bivio di Fontanelle. La gente ora chiede interventi per rendere sicura la strada che è di proprietà comunale, ma pochi lo sanno. Grazie al cielo non c'è scappato il morto, ma l'incidente di questa mattina sulla 189 all'uscita da Fontanelle è stato gravissimo. Mentre sono al vaglio della polizia locale le cause, c'è da dire che lo scontro è avvenuto in un punto, tra l'altro, particolarmente pericoloso visto il traffico, ma soprattutto la velocità con la quale i veicoli che giuncono da nord percorrono il tratto di statale. Oggi l'incidente ha avuto una dinamica che, come detto, è al vaglio della polizia locale, ma chi abitualmente si immette dal bivio di Fontanelle in direzione a Grigento deve fare i conti tutti i giorni, proprio con l'alta velocità, avvertendo il grave pericolo. Non è certo il caso di oggi, ma il pericolo esiste e rimane. Ecco perché soprattutto gli abitanti di Fontanelle chiedono alle autorità competenti, a cominciare dal comune proprietario della strada, di vigilarla opportunamente, facendo ricorso anche all'autovelox, l'unico deterrente a quanto pare capace di scoraggiare l'alta velocità, così come avviene sulla 640 di fronte al distributore Erghe. L'incidente di oggi ha visto coinvolte una Volvo e un Audi. A quanto pare la peggio è toccata al conducente dell'Audi, che si trova ricoverato al San Giovanni di Dio. Immediati sono stati i soccorsi, con le ambulanze giunte sul posto, assieme a carabinieri e agenti di polizia e vigili urbani. Con la strada chiusa si sono create delle lunche code lungo il viale Sicilia. Alla festa dell'amicizia di Ribera, invitato dal segretario della democrazia cristiana Salvatore Cuffaro, il console russo Sergei Patronov. Ma ci sono polemiche. Arturo Cantella Il leader della DC, nuova Totò Cuffaro, ha invitato il console russo Sergei Patronov a parlare di pace alla festa dell'amicizia in programma Ribera la settimana prossima. Il rappresentante della Russia di Putin, paese in guerra con l'Ucraina, sarà l'ospite della tavola rotondola dal titolo Pace, dialogo, disarmo dall'utopia alla ragione di Stato. Sergei Patronov, laureato presso l'Istituto Statale della Relazione Internazionale di Mosca al Ministero degli Affari Esteri, nel 1984 parla italiano, l'inglese e francese ed è consigliere diplomatico di prima classe sin da luglio 2007. Dall'84, in servizio diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri, ricoprendo vari incarichi sia all'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa che all'estero. Invitare il console russo Sergei Patronov alla festa dell'amicizia per parlare di pace è un gesto di libertà, afferma il leader della democrazia cristiana Totò Cuffaro. La democrazia cristiana, lo ricordiamo, che a corta memoria non teme il dialogo e il confronto anche se certi gesti richiedono coraggio quando si parla di valori non negoziabili per il nostro partito si intende anche della pace, che è un valore assoluto al quale non vogliamo rinunciare. Auspichiamo, continua Cuffaro, che da questo momento il dialogo con il console russo possa raccogliere e farsi portavoce di messaggio di pace che la nuova DC intende proteggere e salvaguardare con ogni mezzo lecito a disposizione. Le polemiche provocate dal noto quotidiano regionale siciliano non è piaciuto neanche a Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. Intanto il 5 ottobre, giorno della festa inaugurale alle 17 a Ribera, ci sarà il presidente dell'Ars Calvagno. Quindi un tavolo tecnico, giovani tra crisi e opportunità. Quali sfide per il futuro? Presso la sala convegni Giovanni Ragusa. Con i relatori saranno Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Domenico Bonanno, capogruppo DC in consiglio comunale a Palermo, Felice Pecoraro, primario di chirurgia vascolare al Policlinico di Palermo, Maria Elena Oddo, presidente giovani imprenditori sicilistri a Palermo, modererà Salvatore Licastri, vicepresidente degli ordini del giornalista. La festa continuerà sempre alle ore 18 in Corso Umberto. Con la fiera delle eccellenze siciliane, lo street food, al termine della prima giornata sono previsti due spettacoli musicali, uno in piazza a Duomo, col famoso agrigentino Bendi Gio Castellano e Silvia Mezzanotte. Presente alla festa anche l'onorevole Rotondi. Siamo felici, afferma l'onorevole Pace, che abbia accettato l'invito. Rappresenterà proprio un momento di confronto per un contraddittorio. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, la democrazia cristiana, afferma Pace, è un partito che si fonda sul dialogo e sul rispetto. Per le nuove province c'è la spinta di Forza Italia e della democrazia cristiana a frenare la riforma e Fratelli d'Italia. Margherita Truppiano Il ritorno delle province sembrava cosa fatta, invece il DDL, che contiene le norme che permettono l'elezione diretta delle province, si arena in Commissione Bilancio all'ARS. Il problema sono i costi e la richiesta ancora non è vasa da parte della Commissione all'assessorato bilancio per capire quanto incide economicamente questa riforma, tenuto conto che la stessa ha previsto un allargamento dei numeri dei consiglieri e assessori provinciali che, secondo qualcuno che si è spinto a fare il calcolo, potrebbero ammontare a 4 milioni di euro. È molto probabile che le acque non perfettamente calme tra i partiti che sostengono la maggioranza Schifani abbiano dunque fatto propendere i deputati per un rinvio dell'esame della questione, anche perché di fatto Forza Italia e Democrazia Cristiana sollecitano la definizione dell'itere. Nel frattempo Schifani ha nominato i nuovi commissari. Fratelli d'Italia prende tempo in attesa che, in vista della controriforma che dovrà essere predisposta a livello nazionale, si potrebbe approvare all'Ars un DDL in contrasto. Nessun problema ad analizzare meglio il disegno di legge, ha detto qualcuno tra i meloniani, ma dovremo fermarci in attesa che Roma leggiferi e reintroduca le province. Se ne parlerebbe nel 2024. Nuovo comandante della tenenza dei Carabinieri di Favara è il capitano Leonardo Mirto, Arturo Cantella. Cambio di guardia alla tenenza di Favara. Il capitano Leonardo Mirto, di anni 58, laureato in giurisprudenza, sarà il nuovo comandante della tenenza dei Carabinieri di Favara. Succede al capitano Fabio Armetta, trasferito al comando Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina. Il capitano Mirto vanta una lunga carriera nell'arma dei Carabinieri, iniziata nel lontano 1991. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi operativi e investigativi, tra cui quello di addetto al nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona e quello di comandante del nucleo operativo e radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Sassuolo. Prima di andare a Favara, il capitano Mirto ha comandato per quattro anni la tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove ha svolto un'intensa attività di contrasto alla criminalità comune, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'Onorevole Ida Carmina di 5 Stelle ha presentato una interrogazione al Ministro degli Interni sulla L'Onorevole Ida Carmina, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, insieme ai colleghi siciliani un nutrito gruppo di parlamentari, ha presentato un'interrogazione parlamentare e risposta orale al Ministro dell'Interno Piante e Dosi sull'emergenza sbarchi e sulla gestione migranti in Sicilia e in particolare sul flusso incontrollato che ha provocato situazioni di notevoli gravità non solo a Lampedusa ma soprattutto a Porto Empedocle, primo approdo nella nostra isola. Adesso è sicuramente più tranquilla che non nelle giornate invocate in cui ci sono stati quasi 12.000 sbarchi in pochi giorni e abbiamo vissuto anche un dramma qua a Porto Empedocle e continuiamo a viverlo perché per alligerire la situazione a Lampedusa poi in realtà li portano tutti qui. Io andando a visitare l'hot spot insieme al Presidente Conte ho potuto anzi constatare che lì le condizioni sono più umane perché ci sono delle brandine, c'è la possibilità di lavarsi, ci sono degli edifici mentre qua e voi sapete c'è un caldo davvero eccessivo, bestiale e poi abbiamo delle persone, uomini, donne, donne gravide, bambini neonati che sono esposti al sole tutta la giornata, dormono per terra con quasi nessuna possibilità di lavarsi, evidentemente la situazione è drammatica, infatti da qui fuggono a centinaia, cosa che per la verità non si verifica in Lampedusa. Da qui fuggono, mi dicevano anche oggi ce ne erano decine per le strade perché è una situazione non degna da esseri umani, io è da tempo che chiamo, ho chiamato al Ministero degli Interni eccetera ma si fanno evidentemente sordi perché non è questo il sistema, andavano e vanno immediatamente predisposte le navi per l'accoglienza in modo che si faccia lì identificazione e si dia modo di alloggio decoroso per un essere umano e poi si avvino verso le destinazioni finali. A Lampedusa abbiamo fatto una corà, c'era tanta gente davvero nella maniera greca in cui si affrontavano i principali problemi dell'isola ma una cosa è venuta fuori in modo accorato dagli Lampedusani, loro che cosa temono? Infatti hanno bloccato la macchina dal Presidente Meloni e il fatto che potessero essere scesi dai mezzi militari, delle tende dal traghetto e trasportate lì nell'isola, temono che in realtà di quest'isola si faccia un enorme campo profughi, così si lava la faccia dell'Italia e dell'Europa, vengono trattenuti, ora la Meloni parla addirittura 18 mesi, vengono trattenuti il più possibile in questi campi profughi e evidentemente anche la costruzione dell'Ottiuspot qua a Porta Empedocle che inizialmente noi avevamo visto anche con un certo favore perché pensavamo che fosse semplicemente il trasporto della tenso struttura di Porta Empedocle vicina fra l'altro a una scuola media perché noi non dobbiamo dimenticare che sono cominciate le scuole e questi migranti fuggono a decine, a centinaia in prossimità dalla scuola, allora anche noi che inizialmente avevamo guardato in modo favorevole questa soluzione del trasporto della tenso struttura in zona meno centrale, adesso temiamo che questa sia l'occasione per fare una sorta di campo profughi anche a Porta Empedocle perché se con un semplice piazzale hanno messo lì 2500 persone non oso pensare cosa succederà quando ci saranno qui alloggio per 100-200 persone e succederà peggio che a Lampedusa, avranno la via comoda per fare di questa terra, di questa provincia, abbiamo già anche Siculiana, veramente il campo profughi d'Italia d'Europa. In Sardegna ad Orgosolo apparsi sui muri della città dei necrologi per Matteo Messina Denaro, non si tratterebbe di uno scherzo. Margherita Truppiano. Uno scherzo di cattivo gusto o realtà? È l'interrogativo che tanti si stanno ponendo ad Orgosolo in Sardegna dove all'indomani della tumulazione di Matteo Messina Denaro, il boss stragista che ieri ha trovato sepoltura nella sua Castelvetrano, è apparso un manifesto con la scritta, gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia funebre Gozzi che ne ha curato l'affissione, sarebbero stati commissionati da un anonimo che ha speso 60 euro per ricordare il boss scomparso. I necrologi sono stati affissi in nove punti della cittadina sarda della provincia di Nuoro, nota per essere la capitale del muralismo italiano con i suoi 150 dipinti murali, metà di turismo nazionale e internazionale, ma anche per essere stata la città natale di Graziano Messina, il più celebre esponente del banditismo sardo del dopoguerra conosciuto per le sue numerose evasioni. Il titolare della Gozzi, raggiunto da diverse testate giornalistiche, ha così risposto. Confermo, abbiamo stampato noi quel manifesto, c'è stato commissionato in modalità anonima attraverso un biglietto lasciato all'ingresso della nostra agenzia. Si è trattato di un'angola erdata, di questo sono sicuro. Galà equestre di beneficenza allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini. Vediamo di che si tratta. Un galà equestre di beneficenza realizzato al campo sportivo Nino Lobue di San Giovanni Gemini dall'associazione Powerhouse dagli Amici del Cavallo, in sinergia con il gruppo storico Abbatellis e Branciforti di Cammarata e San Giovanni Gemini, con il pagiocino dei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata a Proloco. Vediamo le interviste al presidente degli Abbatellis e Branciforti Rene Catarella, al vicepresidente del Powerhouse Francesco Notera, che hanno iniziato una grande collaborazione in occasione del galà, nelle quali seguiranno quelle di altri due artisti sequestri. La mia disciplina viene chiamata volteggio acrobatico, sono delle figure proprio acrobatiche, dove il cavallo è lasciato libero, c'è le regini che non le tocco più, vado in figura, testa giù, in aria, laterale, insomma... L'abbiamo vista, l'abbiamo vista, l'abbiamo vista, gli possiamo... Diciamo che ha fatto così... Sì, c'è un feeling con il proprio cavallo che se non è veramente saldo non si può fare questo riuscito, insomma, quindi è tutto questo. Ti ha complimenti soprattutto perché è donna, è brava, è brava, la cavallerissima! Siamo facendo uno spettacolo equestre per cercare di aiutare i ragazzi dell'ARCA, che è un'associazione che si occupa dei ragazzi disabili, ma anche per cercare di formare una struttura e costruire una struttura per costruire l'ipoterapia. E noi invece siamo l'orati e ringraziamo Francesco Rosera e ovviamente anche gli amici di Pavororsi e gli amici del cavallo perché ci hanno chiamato in causa per questa collaborazione. Fare storia vuol dire fare bene e noi vogliamo fare bene insieme con loro in energia con le associazioni. Il cavallo è un nobile animale e noi quindi come corpo storico che abbiamo una casata nobile siamo contenti di questo colloquio. Sono Michael Moulet e ho un genio di addestramento cavalli, arte e passione a questa siciliana. Ho sempre avuto la passione fin da piccolo tramandata da generazione in generazione e adesso siamo qua a fare questo spettacolo in questo bel paese. Dove vieni? Dalla Valle d'Orore. E che cosa conti sei? Cosa fai? Delle figure? Cosa sei un volteggiatore? No, no, diciamo il mio genio si occupa di fare addestramento di cavalli in alta scuola, doma classica e lavoro in libertà. Stasera abbiamo presentato un numero di alta scuola, spagnola. Che ha avuto un grande successo? Tutti i cori della Sicilia si sono dati appuntamento ad Agrigento il 1 ottobre per la sedicesima rassegna regionale. C'è il servizio. L'Associazione Regionali dei Cori Siciliani, Arscori, in collaborazione con il Coro Magnificati di Agrigento, organizza e promuove domenica prossima, 1 ottobre, alle ore 19, con il padrucino e sessorato beni culturali della regione siciliana, il Comune di Agrigento, il Parco della Valle, l'Arcidiocesi di Agrigento, la rassegna regionale dei cori siciliani, giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione, nata per favorire l'incontro e lo scambio di esperienze tra le corali associate e al contempo offrire al territorio una giornata di musica e di spettacoli. L'evento inizierà con la sfilata per le vie principali di Agrigento, dei 16 cori partecipanti per un totale di oltre 600 coristi. Alle ore 10 i cori riuniti eseguiranno Osacrum Convivium. Nella scatinata della cattedrale, all'interno della quale, alle ore 11.30, animeranno la Santa Messa, a partire dalle ore 16 del pomeriggio, le 16 corali partecipanti alla 16 missione della rassegna corale dedicata alla musa del canto corale e della poesia amorosa all'interno del Parco della Valle dei Templi. A gruppi di quattro si esibiranno per 20 minuti ciascuno, nei seguenti quattro siti, Tempio di Giunone, Tempio della Concordia, Tempio di Giove e Tempio dei Dioscuri, eseguendo brani di ogni epoca e di genere. Quindi alle ore 18 tutte le corali partecipanti si raggrupperanno davanti al Tempio della Concordia, dove verranno consegnati gli attestati di partecipazione negli enti e nelle istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento e tutti i direttori delle corali partecipanti. Quindi alle 18.30, accompagnati dalla banda intercomunale Bellini di Agrigento, gli 600 coristi intoneranno nell'ordine il canto degli italiani di Mameli, Madre Terra, l'inno ufficiale della regione siciliana, e Moment for Morricone, una miscellanea di alcuni brani tra quelli del noto maestro di musica. Dalla simil minaccia di diminuire i voli da e per la Sicilia, l'annuncio invece di nuove rotte invernali su Trapani, Catania e Palermo. Sono 5 le nuove rotte internazionali in arrivo per Rainer, Bucarest, Nuremberg, Parigi, Praga e Tirana. Inoltre la compagnia irlandese prevede aumenti delle frequenze su altre 15 rotte per le città europee più gettonate, per i city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia. Questo aumento delle rotte, favorito dopo la distensione dei rapporti tra Rainer e il presidente della regione Renato Schifani, comporterà un aumento di passeggeri in Sicilia a oltre 9,5 milioni all'anno, un aumento strettamente legato al tetto sui prezzi dei biglietti aerei inserito inizialmente nel decreto asset, successivamente corretto dal governo. Riguardo al decreto sul carovoli, il CEO di Rainer e di Wilson ha riferito di un incontro con il presidente della regione siciliana. Durante l'incontro hanno cercato di spiegare che le compagnie aeree non controllano direttamente i prezzi dei biglietti, ma influenzano la capacità di riempire i propri voli. Il problema del carovoli è stato causato principalmente dalla scomparsa della compagna di bandiera che ha ridotto significativamente i collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna. Per questo motivo Rainer intende aumentare le rotte in Sicilia e ha presentato al governatore Schifani una proposta per favorire questa crescita. Inoltre Wilson ha accolto con favore l'apertura dell'indagine condotta dall'antitrust auspicando che possa portare maggiore trasparenza per tutti gli attori del settore. Anche Schifani adesso ha cambiato atteggiamento ed è molto più disteso riconoscendo l'importante ruolo di Rainer nel mercato italiano, soprattutto in quello siciliano. Ha chiarito che l'obiettivo del governo è garantire prezzi più accessibili nel trasporto aereo promuovendo la libera concorrenza e contrastando ogni forma di aumento di prezzi, soprattutto se considerata inaccettabile. Si sta adesso valutando la possibilità di istituire un tavolo tecnico per un dialogo costante e soprattutto costruttivo. Consiglio Comunale a Favara. All'ordine del giorno anche alcune emozioni ed interrogazioni. Giuseppe Moscato. Ancora argomenti di natura finanziaria in primo piano dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocato per questa sera dalla Presidente Miriam Mignemi. Dopo l'approvazione dei bilanci consolidati degli anni 2016-2017, ovvero quelli post di sesto finanziario, questa volta tocca all'annualità 2018. Sarà ancora una volta una mera presa d'atto, in considerazione che il bilancio consolidato è praticamente un consuntivo di fine esercizio. Sempre in tema finanziario, i consiglieri affronteranno la richiesta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore della società cooperativa il Pozzo di Giacobbe di Aragona. Si passerà quindi alla proposta di modifica del regolamento attuativo ed organizzativo della consulta delle associazioni per i diritti della persona con disabilità fisica, psittica e sensoriale. Largo infine alle emozioni ed interrogazioni dei consiglieri comunali. Tra i temi affrontati, la mozione in sostegno di Countless City, edizione 2025, di Farm Cultural Park in terra di Agrigento, capitale della Cultura 2025. Chiarimenti sugli avvisi di pagamento e sulle scadenze Tari 2023. Presentata anche una mozione per manifestare contrarietà alla volontà del donatore Marcello Dell'Utri di intitolare Utria una nuova biblioteca all'interno del Parco archeologico di Agrigento. Audizione della Commissione parlamentare antimafia dei familiari di Paolo Borsellino. Il giudice Paolo Borsellino ha vissuto l'inferno. Nel suo ufficio, un palazzo di giustizia che era diventato un luogo in cui non si trovava più a suo agio, un luogo in cui venne umiliato. E all'isolamento del giudice ucciso, in via da meglio che l'avvocato Fabio Trizzino, ha dedicato la prima parte della sua audizione davanti alla Commissione antimafia nazionale. Il legale rappresenta tutti e tre i figli del magistrato ed è stato convocato a Palazzo San Macuto insieme alla moglie Lucia Borsellino. Siamo convinti, dopo aver assistito al percorrere di varie piste investigative che non sono stati forniti del tutto atti, documenti e prove testimoniali che potessero portare ad elementi, a nostro avviso, indispensabili per comprendere il contesto nel quale mio padre operava e il profondo stato di prostrazione e isolamento in cui ha vissuto fino all'ultimo giorno della sua vita. ha detto invece Lucia Borsellino. Così la Presidente Chiara Colosimo è intervenuta per sostenere di non avere nessun esito già scritto e che vogliamo fare piena luce, soprattutto a partire da quello che finora non è stato detto, ha ammesso. A parlare davanti ai parlamentari di San Macuto è stato soprattutto Trizzino che ha tenuto un'audizione lunga, quasi due ore. Lo ha fatto citando persino la testimonianza della moglie del magistrato Agnese Pirainoleto alla quale Borsellino aveva detto mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia la mafia non si vendica. Forse saranno i mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno i miei colleghi e altri. Secondo Trizzino quel riferimento a i miei colleghi è stato costantemente espunto a rendere difficile la vita in procura a Borsellino e nel suo capo Pietro Giammanco bisogna andare a vedere se già nel 92 vi erano elementi sulla cui base ricostruire le dinamiche comportamentali che avevano potuto giustificare Quell'affermazione incredibile ha detto ancora Trizzino dinamiche che messe in atto dall'allora procuratore di Palermo Pietro Giammanco resero di fatto impossibile la vita del giudice e in effetti è così fino al momento della sua morte 2018 l'ex procuratore capo non fu mai ascoltato come testimone e nonostante subito da meglio fossero stati celebrati quattro processi e dire che sarebbero state parecchie le domande da porre proprio a Giammanco il magistrato è l'uomo che la mattina del 19 luglio alle 7 e 15 telefona a Borsellino per dirgli che ha deciso di concedergli la delega per indagare sulla mafia Palermo così la patria è chiusa dice il procuratore capo no la patria è aperta replica invece Borsellino riferendo il contenuto della chiamata sua moglie quella mattina è una domenica perché un procuratore capo chiama un suo sottoposto per una comunicazione d'ufficio la domenica alle 7 e un quarto perché non può aspettare lunedì successivo il problema è che al giorno successivo Borsellino non arriverà mai più l'avvocato si chiede inoltre il motivo per cui nessuno abbia mai chiesto a Giammanco perché non avesse avvisato Borsellino dell'informativa sull'arrivo di una quantità di tritolo a lui destinato e poi Trezzino è tornato spesso a citare quell'indagine delicata mafia-appalti che era nata da un rapporto del ROS dei Carabinieri un'indagine sui legami miliardari tra Cosa Nostra la politica e l'imprenditoria quell'indagine ha una storia tormentata tra veleni e fughe di notizie che hanno contrapposto alti ufficiali del ROS come Mario Mori e Giuseppe De Donno alla procura di Palermo posizione storicamente sostenuta dalla coalizione della presidente dell'antimafia gli anni passano ma le tante domande restano su un'indagine che è tutt'altro che chiusa Pausa per la pubblicità linea alla regia a tra poco Pagina sportiva Carmelo Lentini ci parla del derby Acragas-Trapani e dell'incontro tra la Profavara e la Nissa entra nel vivo la preparazione dell'Acragas che continua a lavorare con impegno dallo scorso martedì domenica arriva una biggie dal campionato il Trapani che mira senza mezzi termini al salto di categoria ricordiamo che sfiderà il gigante all'esseneto domenica prossima primo ottobre a partire dalle ore 15.30 in tifosi in città sono in fermento è corso il biglietto e si preannuncia il ritorno in massa allo stadio seneto come era prevedibile è stata indetta la giornata bianca-azzurra e pertanto non saranno validi gli abbonamenti gli abbonati invece avranno comunque il diritto di prelazione dal posto e potranno ritirare il biglietto entro sabato 30 settembre sino alle ore 19 presso la segreteria dello stadio la società inoltre ha riservato la tribuna all'alterale agli accreditati per la partita a Gregasse Trapani domenica primo ottobre il botteghino dello stadio sarà aperto alle ore 11 ma veniamo alle novità tecniche perché la società ha provveduto a rafforzare ulteriormente la rosa dei calciatori con un nuovo arrivo si tratta dell'esterno offensivo Paolo Grillo classe 97 originario di Partinico un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile del Palermo il quale può vantare un palmare di tutto rispetto Grillo ha giocato stabilmente nelle categorie superiori collezionando presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Siena Siracusa Provercelli Sicula Le 11 o Cittadella Catanzaro è stato ultimamente protagonista con la Vibonese proprio nel giro dei C di Serie C al termine della stagione ha totalizzato 25 presenti segnando anche un gol ha militato anche con il Messina Grillo è già a disposizione del tecnico Coppa e si sta allenando con i nuovi compagni altro importante appuntamento invece è per il prossimo sabato 30 settembre allo stadio Saraceno di Ravanusa dove a sfidarsi saranno le due big del campionato di eccellenza Girone A Pro Favara Nissa anche in questo caso si prospetta il pubblico della grande occasione ed in entrambe le città c'è grande fermento per questa sfida d'alta quota entrambe si presentano agguerrite ai nastri di partenza con le rispettive tifoserie pronte ad affollare le tribuna dello stadio Ravanusano anche per questa partita è stata indetta una giornata speciale quella giallo-blu bene tutto grazie per la vostra attenzione e arrivederci